Grazie a tutti. La partita decisa con lei la compagna di squadra Elisa Simionato del Riviera Nuoto in terza corsia. De Lorenzi in quattro, leggermente avanti, Simionato in corsia tre, questo momento in terza posizione. Forse la Mazon dalla corsia numero due insieme alla Ceneda in quinta corsia. De Lorenzi trenta e cinquantacinque, Simionato trenta e ottantaquattro, Mazon trentuno e ottantaquattro. Centocinquanta metri di gara con Greta De Lorenzi ancora al comando. Simionato lì in seconda posizione, impostazione fermissima della testa per la Simionato con la De Lorenzi che va a vincere la Simionato in seconda posizione. Doppietta Riviera Nuoto in questa gara 1.03.47, 1.04.16 e la terza posizione che va a Federica Ceneda 1.05.20.